era fare live bella facciamo due verso squad se ci impegniamo non vinceremo mai manco se mi impegni con pisto sono arrivato secondo tre volte di fila stiga lo stereo lama che non metti la prima non mi sto entrando da te ma non mi fa entra cioè non mi dice che non mi fa entrare ma inviano america inviammi la richiesta da epic facciamo prima no no anzi vabbè faccio io allora meno male che l'hai capito che lo dovevi fare tu no allora vedo messa igienita marron comunque a bella male con la maiuscola con la minuscola ma ma non è la m maiuscola perché scusano le x sono tutte due maiuscole no una piccola e una grande dipende dove bella bella alessandra capitelli ciao allora xx manuel 691 xx o cos'è che era no vabbè ma tu mi guardi il nickname davide c'è perché hai problemi qui di qualche ho mandato diet ho mandato no vabbè io non ho parole non ti conviene comunque fatto male te lo dico per me è fatto male ale cosa ha rimandato il dietro il il giorsetto io invita nel gruppo non mi fa entrare di amma beledetto mi si è baggato tutti lo stare la mappa adesso non si è più baggato io ti ho invitato entra si stia molto calmo o ma io non ci trovo da epic mi deve invitare scemo e ti ho invitato da epic ma io non trovo manco la tua richiesta ma io a me ti mi dice che ti ho già online unisciti al gruppo da epic c'è levata no sei offline brutto scemo è vero non è vero era mamma bella paolo mi dice che non risponde a richieste di partecipazione quindi mi devo rifare un'altra singola ii ma allora cambiamo titolo della live facciamo che gioco con gli iscritti va no che figo madonna io voglio questa skin perché sembra quella di dragon ball è vero madonna no che figo madonna io voglio questa skin perché sembra quella di dragon ball è vero madonna poi più la maschera con i fulmini con tutto il gioccolone è quello io voglio io la userò sempre davide c'è stato un errore del gioco grazie e Grazie.